Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Daniele Marchese e in questo video vi consiglierò 10 serie tv da andare a vedere assolutamente su Netflix. Ovviamente questa che farò non è una classifica della peggiore o della migliore serie tv, ma si tratta semplicemente di una lista elencata in modo casuale di 10 serie tv che ho visto personalmente su Netflix. Non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito. Numero 10 The One Android i 100. Creata da Jason Rodenberg, la serie è tratta dai romanzi di Cass Morgan e ambientata nel 2149, 97 anni dopo che una guerra nucleare avvenuta nel 2052 ha sconvolto il pianeta Terra. Del genere umano rimane solo la stazione spaziale chiamata l'Arca. Una serie abbastanza appassionante all'inizio, ma com'è la regola delle maggior parte delle serie, dopo le prime 2-3 sagioni la trama si ragomitola su se stessa. Comincia a intricarsi e diventare sempre meno chiara e coerente. La storia gira intorno a 100 ragazzi mandati in missione sulla Terra. Appunto, come ho detto prima, 97 anni dopo quel disastro nucleare, con un unico obiettivo, sopravvivere in un ambiente ostile. La storia si svolge tra un continuo rimbalzo tra la Terra e lo spazio e i personaggi sono persone con caratteri ben definiti che dovranno trovare un modo per superare le differenze. Unire le proprie forze e creare un nuovo inizio su un pianeta divenuto selvaggio e pieno di insidie. La protagonista, di nome Clark, comincia a diventare sempre più catatonica e contraddittoria e cede lo scettro di prima donna a Octavia. Numero 9 Dark Dark è una serie televisiva tedesca che affronta in maniera driginaria il tema dei viaggi nel tempo, attraverso la storia di famiglie che hanno condotto e continuano a condurre interamente la propria esistenza in un piccolo paese chiamato Winden. È l'anno 2019. La città viene scossa dalla sparizione di due ragazzini. Le indagini sembrano non portare a niente e il mistero si infittisce sempre di più. Quelli che molti non sanno è che la città di Winden custodisce un terribile segreto. Una maledizione che puntualmente si ripercorre su di essa ogni 33 anni. Dal 2019 si torna al 1986 e addirittura al 1953. Tutto ciò avviene attraverso il viaggio nel tempo. Niente è lasciato al caso, ma bensì studiato in ogni sua sfaccettatura. Con Dark il vostro cervello sarà messo a dura prova, qualche schema magari vi aiuterà. No, dico davvero. In Dark tutto accade come deve accadere. E come già accaduto i personaggi scopriranno di essere sempre a Winden, ma con epoca diversa. Entrando in contatto con i propri parenti da giovani o addirittura con se stessi. Ma per chi non l'ha visto, non anticipo nulla. Numero 8. 13. La serie tv intitolata 13 racconta una vicenda tragica. Una ragazza liceale di nome Anna Baker si è suicidata e ci sono 13 motivi per cui è deciso di farla finita. Questi 13 motivi li ha raccontati e racchiusi in 7 cassette. E ogni lato di ciascuna è rivolta ad una persona in particolare che ha causato in qualche modo la sua morte. Il suo desiderio è che tutte e sette persone debbano ascoltare le sette cassette dall'inizio alla fine, per poi farle girare al resto dei membri, coinvolti in ordine numerico, a seconda della posizione nella cassetta. In maniera tale che ognuno, prima di passarle, sappia già le colpe di tutti. La serie è molto carina, ma a mio parere viene prolungata un po' troppo. Nel resto delle altre stagioni c'è il personaggio di nome Clay che impazzisce. Eh sì, ovviamente anche qui non anticipo niente. Vi posso dire che la serie tv tratta diversi temi. Tra cui il bullismo nelle scuole e il difficile rapporto figlio-genitore. Numero 7. Eilith. È una serie tv spagnola. Parla di un misterioso omicidio di un componente di un elegante e pregiata scuola, traboccanti di giovani facoltosi e affascinanti. L'arrivo di questi personaggi, Samuel, Nada e Christian, saranno il fulcro attorno a cui si muoverà l'intera trama. I ricchi ragazzotti non hanno la minima intenzione di stringere un qualsiasi rapporto con i compagni più poveri. L'unica eccezione è costituita da Marina, della quale Samuel si innamora a prima vista. Ciononostante, le due realtà cominceranno a contagiarsi a vicenda, scontrandosi ed incontrandosi a seconda della situazione. Guzman, il fratello di Marina, sarà il più ostile con i nuovi arrivati, ma piano piano non vi anticipo nulla. La serie spagnola percorre il sentiero tracciato da 13 nel presentare delle problematiche complesse e drammatiche, ma esagera nell'aggiungere eventi, decisioni e problemi ben più grandi del mondo adolescenziale, e che di solito sono di competenza di figure genitoriali che in questo spariscono completamente. Cambiando genere vi parlerò di una serie non recente, ma che ha mai colpito molto. Numero 6 Prison Break E abbia andato inizialmente nel carcere di Fox River. Condannato a morte per l'omicidio di un potente uomo di Washington, Lincoln Barrow si dichiara vittima di un complotto. L'unico a credere in lui è il fratello Michael Schofield, ingegnere edile che ha architettato un piano per farlo evadere, ma per metterlo in pratica deve farsi rinchiudere nello stesso carcere. Da qui inizia una lunga roccambolesca fuga per la libertà per Michael, suo fratello e gli altri che si uniranno a loro. Inizialmente la serie è composta da quattro stagioni, perché come vi dicevo è abbastanza vecchiotta, ma a distanza di un paio d'anni ne è stata fatta un'altra. Nel 2009 la narrazione si era interrotta con un epilogo malinconico, per poi riprendere la serie nel 2015 con nove puntate che proseguono la storia di Michael Schofield. Non sto qui a raccontarvi i minimi dettagli della serie, perché altrimenti rovinerei la magia di questo telefilm. È una serie tv ben fatta, la trama è sempre più avvincente e ogni puntata vi tiene incollati allo schermo. È ricco di suspense, di ansia, di sorprese e di amore. Numero 5 The Rain. È una serie del 2018 danese. La storia si muove all'interno del genere catastrofico fantascientifico. La protagonista è Simone che si ritrova improvvisamente a vivere in un bunker, assieme alla famiglia al riparo della pioggia. I genitori, già a conoscenza dell'imminente pericolo, usciranno presto di scena. E Simone dovrà occuparsi unicamente del fratello piccolo, riuscendo anche a destreggiarsi all'interno di un luogo potenzialmente angusto, finché non troverà il coraggio di uscire dal bunker. Dalle prime tre puntate avevo avuto delle buone sensazioni. Ebbene, dopo la visione dell'intera stagione, il giudizio si è leggermente ridimensionato. Non so, ma manca qualcosa per essere una serie a livello assoluto. Tratta temi già visti in The Walking Dead, oppure The 100. Carina l'idea del virso, dei vari bunker, il muro che delibera la zona in quarantena, ma non sono abbastanza. Questi elementi vengono in qualche modo oscurati dal piccolo gruppo che si crea già nella seconda puntata. La storia si delinea attraverso le dinamiche interne del gruppo. I loro intrecci, i loro incontri, i loro spostamenti, le loro decisioni. Quello che tiene in piedi la serie è il ruolo del padre di Simone di Erasmus nella storia. Altrimenti lasciati senza scopo, se non quello di sopravvivere e di vagare per una Danimarca, fatiscente e selvaggia. Numero 4. Orphan Black. È una serie tv canadese che racconta la storia di Sarah Manning, una giovane donna scaltra che si mantiene con una serie di truffe. La sua storia inizia per caso quando diventa testimone di un suicidio di una donna di nome Beth, che è esattamente identica a lei. Senza perdere tempo, decide di rubare la borsa della donna e svuotarle il conto in banca, visto che nessuno si accorgerebbe dello scambio. Ma decide però di non accondentarsi del solo denaro, ma di spingersi oltre rubando l'identità della sua sosia defunta e sottraendole, oltre ai documenti, anche la professione di detective di polizia. Successivamente scoprirà di essere solo uno dei molti cloni in giro per il mondo. Credo che questa serie meriti di essere vista, giusto per la grande recitazione di Tatiana Mesleni, che riesce a impersonare moltissimi ruoli e caratterizzandoli ognuno con insicurezze, maestria e dolcezza. La prima stagione è affascinante, merito del mistero avvolto nel capire cosa sta succedendo. Ma le altre stagioni sono un po' in declino. Numero 3. Visa Vis. È una serie spagnola ideata dagli autori della Casa di Carta. Nel cast c'è infatti la nostra amatissima Nairobi è Alicia Sierra, nel ruolo di Zulema. La serie è ambientata nel carcere femminile, con protagonista Maggie Civantos, che interpreta il ruolo di Macarena Ferreira, una giovane donna in carriera che per il capo dell'azienda dove lavora, di cui è l'amante, commette degli illeciti per i quali deve scontare una condanna di 7 anni. Protagonista non è solo Macarena, ma tutte le altre detenute diventano fondamentali per la visione di ogni singola puntata. In carcere Macarena è costretta a scoprire l'arte della sopravvivenza tra inganni, abusi, furbizia e pericolo. Perché oltre a dover fare i conti con se stessa per essere stata ingannata dall'uomo a chi amava, scopre... eh no. Non ve lo anticipo quello che scopre. Non vi anticipo nulla. Un'altra protagonista è Zulema, una donna senza scrupoli che riesce ad avere il controllo del carcere. Per il resto, se vi è piaciuto la serie della Casa di Carta e siete amanti del genere thriller, Vis a Vis è un'ottima scoperta. Numero 2 Breaking Bad È una serie durata 5 anni. Il protagonista è il professore di chimica Walter White che si dedica a un secondo lavoro poco convenzionale, quanto legale, ma che gli ha fatto fruttare parecchi milioni di dollari, grazie alle sue grandi abilità da esperto in campo chimico. Cosa rende Breaking Bad unico? Se ve lo state chiedendo, lo rende unico il segno indelebile che è in grado di lasciare nello spettatore, facendogli provare una miriade di emozioni. La serie ti lascia sempre in un grande stato di attesa e fornisce spunti di riflessione. Nonostante lo spettatore sia convinto che le cose andranno in un certo modo. Non può fare a meno di pregare che vadano nel senso opposto. Non anticipo nulla. Guardatela, è spettacolare, è bellissima. Ve la straconsiglio ragazzi, veramente. Numero 1. Lucifer. Lucifer, serie tv d'enorme successo, come protagonista Tom Ellis, Lucifero, l'angelo caduto, stanco della sua monotona vita negli inferi, decide di trasferirsi a Los Angeles. La sua vita viene travolta dall'incontro con l'unica persona immune ai suoi poteri. Il suo nome è Chloe, investigatrice del corpo della squadra omicidi della città. La sola che non cede al suo fascino, decide di prendere parte del corpo poliziesco e collaborare nella risoluzione dei crimini. Contemporaneamente apre un prestigioso nightclub di nome Lux, punto di ritrovo dalle anime da lui corrotte e dei protagonisti della storia. La prima stagione è composta da 13 episodi. Lucifer, alle prese con i casi d'omicidio più insoliti, si mostra più angelico del previsto. Nella seconda stagione, composta da ben 18 episodi, sottolinea ancora o più i tratti originali del protagonista. Ed è qui che entra in scena la mamma di Lucifer. Come sempre, non vi anticipo nulla. Andatelo a vedere. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Come ho detto prima, queste sono le mie 10 serie tv che ho visto personalmente e che mi sono piaciute e soprattutto ho apprezzato moltissimo. Se il video è piaciuto lascia un bel mi piace e condividilo. Mi raccomando, iscriviti al mio canale e attiva la campanellina delle notifiche per non perdere nessun video futuro che caricherò. Ciao ragazzi, vi mando come sempre un bacione e al prossimo video.